11 lavoratori impiegati negli uffici dei centri per l'impiego della provincia con contratti a tempo determinato in scadenza a fine ottobre verranno lasciati a casa perché con forti probabilità il loro contratto non verrà rinnovato dalla cooperativa CM Service che ha stipulato un contratto prima con la provincia ma ora di competenza regionale. E' stata la regione stessa infatti ad informare il job di Pesaro che questi contratti non rientreranno nel nuovo appalto. Il centro che cerca di trovare lavoro per i disoccupati licenzia i suoi. Se fossimo in un teatro sembrerebbe la trama di un'opera di Ionesco e del teatro dell'assurdo ma invece è realtà, una realtà drammatica appunto. 11 lavoratori, 11 famiglie, 11 padri e madri di famiglia lasciati a casa senza nemmeno la prospettiva di un ricollocamento o di una nuova posizione lavorativa. Uno di questi lavoratori opera nel job di Fano in uno dei punti nevralgici dell'ufficio, l'accoglienza e l'indirizzo degli utenti. Ecco a questo si aggiunge anche l'età anagrafica che non agevola sicuramente una collocazione veloce, rapida e penso che tu ne sappia qualcosa perché lo vivi quotidianamente. Questo è un carico emozionale ancora più aggiuntivo rispetto a questo. Purtroppo a me sì, ma gli anni passano anche a me. Io ho 52 anni, non ho più 20 anni che se mi succedeva 20, 25 anni forse non eravamo qui a parlarne. Ma oggi purtroppo a 52 anni io come tanti altri fanisi della mia età, della mia stessa classe di nascita eccetera, cosa ci mettiamo a fare? Non siamo buoni per la pensione e non siamo buoni per le agevolazioni che lo Stato fa per le assunzioni. Siamo nel limbo che siamo così, costretti a mendicare un lavoro a destra e a sinistra e si siamo fortunati, ma siamo in pochi. La cosa è ancora più assurda e assume connotazioni paradossali se pensiamo che presto partiranno le domande per il reddito di cittadinanza che dovranno essere gestite proprio dai centri per l'impiego, che andrà ad aggiungersi tutto ciò alla normale mole di lavoro che già gli uffici, sempre in aumento con le loro domande, devono gestire. Il job di Fano infatti si occupa di 7.500 disoccupati, di cui 4.800 con indennità e affronta 14.000 accessi all'anno per consentire alle oltre 1.000 aziende del territorio che fanno richiesta di gestire 4.200 colloqui di lavoro. Giornalmente poi in via De Cupis arrivano dalle 120 alle 140 persone, accedendo così agli uffici per un colloquio. Venendo meno questo personale noi avremo un caos all'inizio che non ci porterà poi a svolgere bene i nostri servizi dietro, quelli più qualificanti, per cui sono per me persone fondamentali, anzi è una persona fondamentale che con noi collabora da anni, sa fare il proprio mestiere, è una persona capace e per cui io ci tengo molto a tenerla. Il 70% degli accessi ai centri vengono inviati dai patronati, il 20% per richiedere l'indennità di disoccupazione e un 10% arriva spontaneamente. Sulla mole di lavoro che devono gestire i job, uno su tutti segna il passo. L'aumento delle richieste. Da dicembre ad agosto del 2018 le domande sono state 543, mentre nel 2017 erano 522 e nel 2016 345, ciò significa un più 58%.